Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video shopping Partiamo subito con questo bellissimo bomber è un bomber in stile giapponese taglia SM perfetto per questo periodo perché non è tra l'altro leggerissimo è giusto per questo periodo a parte oggi che fa un freddo boia qui da noi non so da voi comunque mi piace tantissimo il colore e anche questi patch qua fa questo effetto raso poi c'è uno spolverino meraviglioso che arriva fino alla caviglia una taglia unica a un prezzo interessantissimo veramente molto basso si può anche utilizzare con una bella cintura in vita adoro il colore ovviamente il colore che ve lo dico a fare mi ricorda tantissimo i miei capelli infatti ve li faccio vedere qua perché sono idiota bellissimo veramente si può mettere con tantissime tipologie di outfit da abiti, pantaloni, jeans, un po' di tutto e di più vi fa anche quasi un effetto camicione poi abbiamo questo vestito questo è sold out è stato praticamente già acquistato quindi ve lo faccio vedere durante questo video però in realtà ho poco da dire perché non è disponibile quindi questo già a prescindere era una taglia unica, un bellissimo verde bosco si può mettere una cinturina in vita ne avevo un uguale bordeaux quando ho aperto il negozio ad aprile che mi è andato tipo il primo giorno anzi prima dell'apertura ce l'avevo già prenotato avevamo già capito come andava, come funzionava e sapevo che questo vestito sarebbe durato poco o niente in questo negozio bellissimo tra l'altro prezzo anche super interessante quindi è inutile parlarne arriva un cappotto, questo è meraviglioso ragazzi è un cappotto di Zara taglia XL in condizioni perfette bellissimo cioè la cosa che mi ha colpito di questo cappotto è la parte dietro questa parte qua è un po' un stile imperial diciamo perché l'imperial aveva fatto delle cose di questo tipo è un po' questo stile vittoriano con tutte queste pieghe dietro che fanno questo effetto femminile al cappotto e regalano veramente un tocco particolare nella semplicità oltre ad avere un prezzo diciamo super super interessante poi abbiamo, mi faccio vedere un po' di scarpe numero 39 questi tronchetti con questo fiocchetto sarebbero benissimo tra l'altro col cappotto che vi ho fatto vedere un attimo fa hanno anche la faccia di essere comodissimi stanno benissimo con le calze ricamate con calze nere coprenti lasciano il collo del piede nudo cioè nudo, visibile sono molto belli sono i tronchetti della principessa io li ho chiamati così diciamo perché mi ricordano le principesse con questo maxi fiocco sono io imitazione di un brand famoso queste invece sono delle ballerine anche loro imitano un brand famoso infatti arrivano da ASOS che ripropongono spesso le cose che si vedono diciamo nelle sfilate questa è una ballerina nuova di pacca praticamente numero 40 glitterata con tutte queste stelle argento ce le vedo bene con un bel outfit o tutto bianco o tutto nero e queste ai piedi bisogna saperle portare bisogna avere una giusta personalità sono molto carine per chi le porta diciamo bene con disinvoltura non effetto papera e hanno anche la punta che insomma si lancia un po' la figura e un mini tacchettino sotto diciamo tutte le cose come devono essere dette numero 37 Zara ve le avevo già riproposte sono in super saldo sono perfette però ecco le sto saldando perché voglio che qualcuno se le accaparri il più possibile perché so stufa di vederle in negozio non capisco come è mai così belle siano ancora qui da me dovete prenderle sono bellissime hanno questo fiocco meraviglioso in tweed passiamo poi a uno stivaletto questo so che vi piacerà tantissimo è un numero 40 quindi fortunato è il numero 40 è uno stivaletto con tutte le fibbie necopelle tenuto molto bene e anche il prezzo è molto interessante c'è ancora la sua scatola l'ho tenuta perché era praticamente perfetta quindi ho voluto omaggiarvi anche eventualmente della scatola anche se non è un brand particolare poi abbiamo questa sneakers questa è una sneakers nero grigio diciamo un po' così lavorata viene soltanto 3 euro ragazze e numero 38 la scarpetta per tutti i giorni va benissimo insomma un prezzo veramente super interessante anche per le passeggiate va benissimo poi vediamo che cosa vi posso proporre allora mi sa che arrivavamo con un bellissimo tronchetto pentò perfetto mi porto già avanti numero 35 praticamente condizioni ottime perfetto da mettere con abiti con vestitini che sono la stessa cosa di abiti in effetti con pantaloni trench coat bellissimo c'è anche un mini plateau quindi deve essere anche abbastanza comodo nonostante un po' di tacchettino poi abbiamo uno stivaletto questo è comodo e anche se comunque il tacco è abbastanza alto ma è comodissimo è di Berska e del numero 37 in buonissime condizioni bellissima la nappina con la treccia sulla caviglia è veramente molto molto bello come tronchetto anche questo con gli skinny un bel maglioncione maxi sta davvero benissimo anche con una camicia grazie a tutte ciao ci vediamo nel prossimo video